Voi siete uno dei ristoranti bersagliati da questa nuova ondata di truffe, come è andata, come si è svolto il tutto? Niente, ha chiamato questa signora Vitali, prenotando per tre persone, dicendo che voleva fare una sorpresa a suo marito, che questo vino costosissimo spagnolo che nessuno in Italia aveva, riuscivano a trovare, fortunatamente sono riuscita a trovarlo da questo Luca, lasciandomi il numero di questo fornitore, che ovviamente io non conosco, e che poteva comunque portarmi il vino il giorno stesso, perché la cena si sarebbe tenuta al mercoledì, in modo tale che poteva fare il regalo a suo marito. E niente, è successo che lei mi ha spiegato che andando in questo ristorante di Venezia, importantissimo, ho bevuto questo vino, il marito se ne è innamorato, che voleva a tutti i costi regalargli questo vino, e gli ho detto, guardi signora non c'è nessun problema, se lei vuole questo vino faremo in modo di trovarglielo, però io ho bisogno del nome del vino, ha il nome del vino, non lo so, non lo conosco, lo sa mia cognata di Milano, lei, gli ho detto, vabbè allora chiami il suo cognata di Milano, e si faccia dire il nome del vino, poi io chiamo questo Luca, questo rappresentante, però ho bisogno di sapere il cognome del rappresentante per chi lavora, perché non posso chiamare una persona, non so con chi parlo, gli ho detto, almeno avere queste tre informazioni in base, poi io gli ordinerò il vino, poi a quel momento ho detto, allora dai tra un'oretta la chiamo e le faccio sapere, da lì non ha fatto più sapere niente, però io sinceramente pensavo che alla sera ancora non avevo captato la cosa, perché ovviamente non lo sapevo e pensavo che si sarebbero fatti vedere, invece nel pomeriggio guardando Facebook e a un altro ristorante con la stessa esperienza, però purtroppo con il fatto che i soldi lì gli erano riusciti a prendere, mi sono accorta e ho detto sicuramente non si presenteranno e così è stato. Perché la cosa che vi unisce tutti è lo stesso cognome, Vitali? Vitali, no, più che altro era Vitali, tre persone, un compleanno per tre, bottiglia di vino, rappresentante sconosciuto, dai, tanto comunque più o meno i rappresentanti si conoscono tutti, i restauratori anche, quindi a Fano l'informazione è girata subito, ecco. Per fortuna siamo riusciti a non... A non caderci. Esatto, sì, però sono stati bravi. Ho già pensato che uno mi porta il sì.